Primi acquazzoni, primi allagamenti in diverse parti della città. A Carbonia le prime vere e forti piogge d'autunno, concentrate nella mattina e nel pomeriggio, hanno creato non pochi disagi e danni, e ciò anche a causa di un non adeguato sistema di canalizzazione delle acque, in particolare di un canale di guardia la cui realizzazione è attesa da oltre un decennio, e caditoie che, nonostante l'avvio di alcuni interventi da parte del comune, non sono ancora completamente pulite e tali da consentire il regolare deflusso dell'acqua. I problemi maggiori in città, con strade e scantinati allagati, si sono avuti in via Sicilia, via Cugliel, via Puglie e in via Dalmazia, nei presi della rotatoria per l'ospedale Sirai, dove la bomba d'acqua ha allagato anche il vicino parcheggio. Piccoli allagamenti si sono registrati anche in alcune strade nei presi di Barbusi, ma le improvvise bombe d'acqua non hanno interessato solo Carbonia e il resto del Sulcis. Gravi danni e disagi, infatti, si sono registrati anche nel Terralbese, e in particolare a Terralba, Uras, Mogoro e Arborea, dove a causa delle piogge in più zone è mancata la corrente elettrica, che non ha consentito l'avvio delle pompe, provocando così l'allagamento di diversi scantinati.